del Salone d'Onori del CONI di Roma che ospita appunto le sedute del Consiglio Nazionale. E questo è un momento particolarmente impegnativo, difficile, ma se vogliamo anche stimolante. Allora, si comincia a parlare di riaperture anche per lo sport, quello all'aperto per certi versi non si è mai completamente fermato, per altri sì, però adesso si comincia a riparlare anche di riaperture di palestre, di piscine, sia pure con delle scadenze naturalmente. Qual è la vostra posizione? Com'è anche la situazione dello sport di base in questo momento? Sì, come ben sai Maurizio, la WISP ha sempre guardato, diciamo, in questi mesi con grande responsabilità ovviamente al tema della possibilità delle riaperture. Siamo, ecco, soddisfatti da un lato che sia stato il Premier Draghi direttamente in questi giorni a porre attenzione al tema dello sport di base. Abbiamo, accanto alla responsabilità sempre dimostrata, avuto anche sempre fiducia e speranza, ecco, verso le riaperture. E così, con questo stato d'animo, viviamo questi giorni. I provvedimenti preannunciati ci mettono alla condizione di sperare, ecco, che nelle prossime settimane ci possa essere, seppur graduale, una ripartenza importante per tutte le nostre associazioni e società sportive di base. E ovviamente, ecco, ci vuole, ci vorrà, ci vuole, ci vorrà cautela e prudenza, come sempre abbiamo detto. E viviamo sempre più momenti particolarmente difficili, per usare un enfemismo, lo abbiamo denunciato più volte, grazie anche a voi, grazie a Primo Canale, che non ha fatto mai mancare l'attenzione, ecco, su questo problema. E continuiamo, ecco, a vivere questa situazione, se vogliamo, anche appesantita dall'attualità degli ultimi giorni, dall'attualità delle ultime ore, perché mentre da un lato si parla di Superlega per l'elite del calcio europeo, dall'altro, ecco, tardano sempre ad arrivare alle giuste attenzioni, i giusti sostegni allo sport di base. Nelle prossime ore si dovrebbero sbloccare i contributi, i bonus ai collaboratori sportivi, le risorse dovrebbero arrivare dal governo a sport e salute, però per tutto il resto le nostre associazioni, le società sportive di base del territorio, pensiamo a tutte quelle che continuano comunque, avendo una gestione di impiantistica sportiva, a pagare utenze, a fare grandi sacrifici, sostanzialmente si sono viste fino ad oggi ristorate da poche migliaia di euro. È una situazione insostenibile che continuiamo a denunciare presso tutte le sedi opportune a partire dal governo centrale. Ecco, l'hai sfiorato il tema, in questo momento stride questa idea di Superlega con circa 3,5-4 miliardi di euro per i club più ricchi e le grandi difficoltà dello sport di base. Ora, io pregiudizialmente non sono contrario che chi ha la possibilità di accedere a molti soldi provi ad arrivarci, però ci vorrebbero dei meccanismi di compensazione, cioè se ci sono tanti soldi che possono arrivare è giusto che ne benefici chi li traina, chi li porta, ma poi dovrebbero esserci dei meccanismi che consentano di dirottarli anche verso i vivai, verso lo sport di base, verso gli enti di promozione sportiva. Non so cosa ne pensi. Proprio così, Maurizio. Io personalmente sono assolutamente d'accordo con la tua lettura. Del resto, come dire, è un fenomeno che non arriva, come dire, un fulmine che non arriva al cielo sereno in questi giorni. Io credo che questa sia la risultanza di ormai tanti anni di sport, di calcio ai massimi livelli che ormai è diventato più che altro spettacolo, tutto il fenomeno ovviamente dell'attenzione dei network televisivi internazionali, tutta l'attenzione ovviamente spostata sui diritti televisivi ha portato questo risultato. Come Wispio, come sai, non siamo mai stati un soggetto che ha cercato contrapposizioni con lo sport di vertice, ha cercato semmai sempre contatti e proprio anche il prossimo impegno all'interno del Consiglio nazionale del CONI sarà rivolto anche a questo. Quindi ha una collaborazione sempre più netta tra promozione sportiva, fra federazioni. Detto questo, hai centrato sicuramente il problema anche visto dal nostro osservatorio, quello di una sperequazione di risorse economiche investite che non è più sostenibile, ma al di là appunto della Superlega. Continuiamo a denunciare questo, quindi al netto della Superlega, al netto dei diritti televisivi, in questo Paese pochissimi punti percentuali delle risorse che lo Stato mette a disposizione dello sport arrivano allo sport di base. E quindi ecco, c'è da ripartire sicuramente da questo e mai come in questo momento possiamo dire c'è necessità di una riforma, di una vera e propria riforma legislativa dello sport che metta ecco in giusto equilibrio tutto il movimento perché come sappiamo a noi, come dire, a tanti di noi, me compreso ovviamente piace il calcio, piace andare allo stadio, piace vedere le partite. Purtroppo in questo periodo non possiamo che vederle a casa attraverso il televisore, però, come dire, accanto agli sportivi a cui piace vedere il calcio e lo sport in televisione, ci sono milioni e milioni di cittadini, di cittadini italiani che vogliono tornare al più presto a praticarlo e parliamo appunto di un numero, come dire, straordinariamente superiore a quello che è coinvolto dallo sport ed elite guardato in televisione. Un ultimo aspetto, voi come Wisp ma anche altri enti di promozione sportiva vi siete schierati a tutela dello sport di base contro i cosiddetti furbetti, stop ai furbetti, chi sono questi furbetti, cosa succede? Grazie Maurizio di questo spunto, ma è un'occasione che abbiamo colto proprio nei giorni delle elezioni, del rinnovo del Consiglio Nazionale del CONI, alcuni enti di promozione sportiva che hanno voluto sottoscrivere questo appello affinché, a partire da chi come me avrà il privilegio e l'onore di siedere all'interno del Consiglio Nazionale ma anche chi poi avrà l'onore di guidare il coordinamento degli enti di promozione sportiva, assumersi questo impegno. Noi crediamo che, intanto partiamo da un dato di fatto, quello che ha visto l'ordinamento sportivo vivere negli ultimi tre anni dei profondi cambiamenti con una configurazione attuale, ne parlavamo poco fa, di un sistema sportivo che vede una posizione, vede la promozione sportiva sostanzialmente continuare ad essere totalmente subalterna allo sport di prestazione. C'è tutto questo aspetto e quindi ridare, dare forza alle attività di promozione sportiva e sociale, ma soprattutto, come sottolineavi, riteniamo, sai che è una battaglia che il Luisto porta avanti da molti anni sui temi dell'etica, della trasparenza, del rispetto delle regole. È indubbio che ci siano anche all'interno del mondo della promozione sportiva soggetti che agiscano sostanzialmente nel quadro, abbiamo detto nel documento, di mere finalità commerciali, quindi usufruendo impropriamente anche di agevolazioni fiscali che favoriscono l'attività istituzionale. Sono pratiche che creano confusione all'intero mondo dello sport di base e quindi ecco, diciamo con questo documento non ci stiamo più, lo sport di promozione sportiva, lo sport di base merita attenzione, ma merita anche, come noi diciamo da tempo, i giusti controlli e le giuste verifiche. Bene Tiziano, grazie, naturalmente buon lavoro sia sul territorio ligure sia a livello nazionale e all'interno del Consiglio nazionale del CONI. Grazie a Tiziano Pesce. Grazie Maurizio, grazie a voi, buona giornata. Allora, vediamo se Michele Varie è ancora collegato con noi e ci può anticipare ulteriormente il tema che andrà a trattare, in parte lo abbiamo sentito, non so se è stato raggiunto dalla sua ospite, dalla storia che ci vorrà e dovrà raccontare, possiamo forse avere una piccola anticipazione? No, non ancora. Allora ci fermiamo un attimo e poi eventualmente torniamo in esterna da Michele Varie, a tra poco.